Buongiorno al nostro allenatore, alla vigilia di Inter-Milan, il derby di andata del campionato 2020-2021. Mister, le volevo proporre inizialmente alcune domande di Milan TV. È una partita importante o una verifica? Cioè, è una partita nella quale il Milan vuole misurarsi e pesarsi? Oppure il Milan si conosce, sa come affrontare le partite e affronta un avversario forte e importante? No, il Milan ha la propria identità, ha il suo modo di stare in campo, ha il suo modo di giocare e comunque nel nostro lavoro, nel nostro sport, gli esami non finiscono mai. Quindi è un esame importante, un esame difficile, l'importante è essersi preparati bene, con poco tempo avuto a disposizione, perché abbiamo avuto poco tempo, ma così vale anche per i nostri avversari. Ci sentiamo preparati, ci sentiamo pronti per affrontare questo esame. Mister, è un derby, il derby è un fatto di storia, di popolo, di rivalità, di colori, di gente, di striscioni, di tante cose che non saranno presenti allo stadio. Voi siete i protagonisti e dovete essere dei professionisti molto lucidi, però sapete che siete voi protagonisti, voi allenatori, voi giocatori, a incarnare un po' la rivalità fra rossoneri e nerazzurri domani in campo a San Siro? Sì, ma questo si sente al di là appunto come giustamente sottolineato purtroppo dell'assenza dei tifosi allo stadio domani, però che sia una partita importante, che sia una partita sentita, che entrambe le squadre giocheranno con le proprie qualità, con le proprie caratteristiche per cercare di vincere, questo sicuramente sì. Quindi sentiamo questa sfida sicuramente, poi ripeto, sarà in esame domani, poi ci sarà il Celtic giovedì prossimo, poi ci sarà la Roma, quindi noi dobbiamo prepararci a giocare al meglio questa partita, a cercare di giocare bene, a cercare di giocare al meglio dei nostri avversari, a cercare di portare a casa tutto quello che possiamo. Ecco, Mister, oggi Carlo Ancelotti ha dichiarato che Maldini e Pioli hanno fatto un lavoro enorme. Mentre leggevo queste parole pensavo, questo è il derby della quarta giornata di campionato, anche l'anno scorso il derby d'andata era stato la quarta giornata di campionato, immagino lei lo abbia osservato davanti alla tv. Ecco, il Milan un anno fa sì arrivava al derby un po' alla ricerca di se stesso, ecco, vedendo invece come arriva, al di là di come andrà, vedendo come arriva comunque il Milan a questo derby della quarta giornata di andata, si tocca con mano il lavoro che nell'area sportiva del Milan, tutta la società, lei lo staff tecnico avete fatto. Beh, intanto ringrazio Carlo per le belle parole spese nei nostri confronti, e poi il nostro è un percorso che è cominciato un anno fa, che poi ha avuto un'interruzione lunga, però è un percorso che è ancora per i tempi che ci sono nel calcio, per i tempi di conoscenza, per i tempi di amalgama, di voler stare insieme, è ancora un percorso iniziale, ancora ci vede ancora comunque, secondo me, con ampi margini di miglioramento, però dobbiamo affrontare queste sfide con grande consapevolezza delle nostre qualità, con grandissimo rispetto ad un avversario che da tutti è pronosticato come il probabile vincente del campionato, quindi andremo al campo però con convinzione, questo sicuramente, e provare a fare meglio di loro. Mister, le giro tre domande di Sky. Sky chiede, il Milan adesso è credibile, ha un'idea, ha un progetto, e questa è la sua grande vittoria. Sperava di arrivare al derby così, dopo un anno di lavoro? Speravo di arrivare al derby con tre vittorie in campionato, questo sì, con il raggiungimento dei gironi, il nostro primo obiettivo era quello di cominciare bene il campionato, di passare i preliminari, sapevamo che comunque non sarebbe stato facile perché abbiamo avuto poco tempo per prepararci, quindi ci arriviamo bene, ma ci arrivano bene anche i nostri avversari, quindi credo che, ripeto, saranno due squadre che proveranno a superarsi. Per anni il Milan faceva il Milan con le piccole, e non vinceva mai contro le grandi, e tutti dicevano, quello sarà il salto di qualità. E nel post-lockdown è stato fatto. Adesso invece, vincere un derby dopo anni, che step rappresenterebbe? Forse l'ultimo per puntare in alto? È chiaro che battere un avversario così forte come l'Inter ci darebbe sicuramente tantissimo entusiasmo, ancora più fiducia di quella che abbiamo nelle nostre qualità, nelle nostre caratteristiche. però noi dobbiamo pensare alla partita alla volta, dobbiamo pensare comunque a continuare a crescere, a continuare a migliorare, a continuare a allenarci come stiamo facendo, e a provare anche ad essere ambiziosi. Però adesso è inutile pensare a quello che succederà dopo, adesso dobbiamo prepararci bene per affrontare al meglio questa gara. Sempre Sky. Noi possiamo limitarci alle immagini e al sentito dire di Milanello, ma pare che Ibra sia carico, sorridente, decisamente in condizione. Ce lo racconta lei l'Ibra di questi giorni? E se per qualche giorno ha avuto magari paura di non averlo in questo derby? Beh, Ibra il problema ce l'ha avuto, ma l'ho ritrovato come l'avevamo lasciato, o come sempre è stato con noi da quando è arrivato qua il primo giorno l'anno scorso, a inizio gennaio. Sorridente, positivo, volitivo, generoso, determinato, trascinatore. Sta bene, sta bene. Poi è chiaro che ha avuto solamente una settimana di allenamenti, ma ha fatto bene, è pronto per giocare. Onestamente non so oggi quanto potrà avere domani nel corso della gara, come è durata, ma che sia pronto, che sia motivato, che sia determinato, questo assolutamente sì. Mediaset, vincere il derby per la svolta definitiva nel percorso di crescita della squadra? Vincere per dire a tutti gli effetti siamo tornati, per avere un'ulteriore conferma? Tutte le partite servono per avere delle conferme, tutte le partite servono per capire a che punto sei, per capire dove migliorare, dove consolidare invece delle situazioni che ci stanno dando, che ci stanno dando delle situazioni positive. Quindi anche questa partita ci vedrà di fronte un avversario forte, ripeto, e che quindi ci metterà anche, ci darà anche la possibilità di capire dove siamo già a buon livello, dove invece possiamo crescere. Credo che sia stata molto importante, purtroppo nella sconfitta dello scorso derby, quella partita, secondo me abbiamo tratto tanto insegnamento, perché abbiamo dimostrato di avere qualità, abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari di un avversario molto forte, ma abbiamo anche capito che basta mollare un attimino l'intensità, l'aggressività, l'attenzione, per poi subire degli schiaffi importanti. Quindi questa è stata una palestra importante, su quella sconfitta poi abbiamo, secondo me, costruito il nostro percorso. E poi adesso vedremo domani a che punto saremo. Rai, solo 24 ore per preparare il derby con il gruppo al completo, era opportuno mandare in giro per il mondo i giocatori per la pausa delle nazionali? La società e i giocatori si sono resi disponibili con le loro federazioni, stanno tutti bene, poi è vero che abbiamo avuto solo un giorno, abbiamo fatto allenamento solo stamattina, al completo, ma abbiamo lavorato bene comunque, sono tornati bene, stanno bene, e siamo alla pari dei nostri avversari, perché credo che anche i nostri avversari abbiano avuto le nostre stesse problematiche. La TV2 norvegese, che impressione ha dato a lei e al resto della squadra finora, Jens-Peter Auge? Una buonissima impressione, un ragazzo sveglio, un ragazzo attento, con delle buone qualità, con velocità e tecnica, quindi caratteristiche importanti per il nostro modo di giocare e per il calcio moderno. È chiaro che arriva da abitudini diverse, ancora con la lingua, ma si sta già sforzando, capisce già abbastanza bene, e quindi si sta inserendo bene. Milannews.it le chiede quando può rientrare Ante Rebic? Credo che non sarà disponibile per domani, e credo che per la settimana prossima dovrà fare comunque un altro controllo per capire quando potrà rientrare. Sta meglio, questo è importante, abbiamo evitato, ha evitato una cosa un po' più lunga con un intervento, quindi questo è importante. Adesso è chiaro che è stato comunque un infortunio delicato, perché comunque caderci sopra potrebbe essere un problema, aspettiamo la settimana prossima per capire un po' meglio quelli che saranno i suoi tempi di recupero. L'agenzia Area le chiede l'Inter che si è vista finora segna tanto, ma lascia anche qualche spazio in difesa. È un Inter che le dà più speranza o preoccupazione? Abbiamo lavorato molto su noi stessi, poi chiaramente non abbiamo tralasciato le loro posizioni, affrontiamo un sistema di gioco con delle posizioni che ci costringeranno poi in fase difensiva a fare delle scalate, a fare delle uscite, ma siamo preparati a quelli. È un Inter forte, fortissima, ma come tutte le squadre può avere anche dei punti deboli. Ieri nelle interviste Gigio Donnarumma ha domanda sul gap rispetto all'Inter da parte del Milan rispetto all'anno scorso. Le chiede calciomercato.com A questa domanda Donnarumma ha risposto che il gap si è ridotto. Lei è d'accordo? Sono sempre d'accordo con quello che dicono i miei giocatori perché se lo dicono è perché lo sentono e quindi adesso poi dobbiamo essere bravi e cercare di dimostrarlo sul campo. Oggisport.it le chiede Nell'ultimo derby il Milan ha giocato un primo tempo ad alto livello mettendo l'Inter alle corde. Quell'intensità nell'aggredire alti e l'intero spartito tattico usato in quel primo tempo di febbraio sono le armi giuste da usare anche domani? Credo che dobbiamo essere molto, se in tutte le partite dobbiamo essere molto lucidi dal punto di vista tattico molto dovremmo farlo domani sera. Capire quando abbiamo le posizioni giuste, quando ci sono gli appoggi marcati, quando poter andare in pressione e capire invece quando è un momento di temporeggiare. È chiaro che si preparano e si prepara la strategia per una certa fase difensiva ma è altrettanto vero che poi dopo sono le situazioni in campo che i giocatori dovranno leggere, dovranno capire però rimane il nostro modo di giocare un calcio comunque sicuramente intenso e non sicuramente d'attesa. È lo stesso atteggiamento che hanno loro sulla carta sulla carta dovrebbe essere una partita spettacolare con due squadre che provano a segnare un gol più degli altri. Milan Press Da quando è arrivato al Milan Simon Chiaer sta vivendo un periodo di forma eccezionale con grandi prestazioni sia in rosso-nero che nella nazionale danese. Si aspettava che potesse dare un contributo di così alto livello? Quanto è importante la presenza di Chiaer in campo e nello spogliatoio? Onestamente me lo auguravo ma l'apporto che Simon sta dando dentro e fuori dal campo è sicuramente di alto livello. Stiamo parlando di un professionista ineccepibile di un ragazzo molto intelligente e che porta la sua professionalità e la sua intelligenza anche nel campo e anche il ritorno del capitano ci permette di trovare quella linea difensiva comunque quei meccanismi che abbiamo comunque sui quali abbiamo lavorato e sono molto contento che possa rientrare Romagnoli anche se in quel reparto abbiamo ancora qualche difficoltà perché mancheranno gli altri tre difensori centrali Duarte, Gabbia e Musacchio però dobbiamo continuare a essere una squadra senza palla molto compatta molto attenta. Spazio Milan su una scala da 1 a 10 secondo lei quanto è cresciuto il Milan di oggi rispetto a quello dell'ultimo derby quello di febbraio? Stiamo parlando di parecchi mesi fa quindi è chiaro che abbiamo attraverso esperienze per fortuna poche negative e molte positive credo che siamo cresciuti sicuramente per il lavoro che abbiamo fatto per la conoscenza reciproca per i risultati che abbiamo ottenuto quindi sicuro siamo cresciuti però poi dopo è inutile ripensare o riguardarci troppo indietro e pensare al passato pensiamo al presente pensiamo ad affrontare bene questa gara e poi vedremo a che punto saremo Calcio Mercato le chiede Inter Milan vivrà tante sfide al suo interno come quella fra Ibre e Lukaku fra Achimi e Teo Hernandez ma inevitabilmente un po' anche quella fra lei e Antonio Conte vorrebbero i colleghi sapere se è possibile vorrebbero che lei spiegasse cosa vi rende diversi lei e Conte e se c'è qualcosa che invidia Conte no sicuramente no perché l'invidia è un sentimento che non mi appartiene questo in assoluto perché amo quello che faccio amo il mio lavoro amo i miei giocatori amo questo ambiente quindi assolutamente non non posso invidiare niente nessuno le differenze tra me e Conte non so difficile io i colleghi li conosco ma li conosco per come ci sfrutteremo domani prima della partita li conosco per come studio le loro strategie le loro partite ma le conosco personalmente non so come si approcciano ai propri giocatori quindi sono tante le cose che non conosco per poter dare giudizio sulle differenze tra me e lui forse siete più pertinenti voi a fare queste cose mister Pellegatti le chiede la più grande differenza fra il Milan di adesso questo Milan e la più grande differenza con il Milan che ha affrontato l'Inter a febbraio abbiamo sicuramente un'identità più precisa abbiamo delle conoscenze che sono superiori perché giochiamo giochiamo insieme da più tempo con questo sistema di gioco con questi con questi giocatori e quindi è chiaro che siamo cresciuti di livello ma stiamo parlando di affrontare una squadra ripeto di altissimo livello che è stata costruita per cercare di vincere in Italia anche nel Ruop mister le ultime due domande sono sempre di Milan TV la preparazione di un derby arriva da lontano non si prepara mai solo dal giorno prima dalle ultime ore di vigilia ecco le due spinte forti che ha ricevuto il Milan prima di questa partita con l'Inter sono sia la qualificazione ai gironi di Europa League che il ritorno di Ibra sì c'è tutto dentro la preparazione di questa partita c'è sicuramente il nostro inizio di stagione quindi le tre vittorie in campionato sono state tre vittorie che qualcuno ha giudicato facili ma invece vince non è mai facile e non è stato facile né battere Bologna né battere il cotone né battere lo spezia abbiamo dovuto lavorare da squadra abbiamo dovuto avere rito abbiamo dovuto avere qualità e così come è stato importante passare i preliminari con difficoltà ma come secondo me era anche giusto aspettarsi visto l'inizio della stagione visto tanti impegni ravvicinati e poi è chiaro che anche il rientro di Zatane sicuramente non stimola in più Mister nell'avvicinamento a questo derby si è parlato molto spesso di assenze e per carità tutte le assenze sono importanti l'assenza di Rebic è un'assenza particolarmente importante beh sì sì perché stiamo parlando di un giocatore che è stato determinante in tante partite non solamente attraverso il gol ne ha fatti tanti ma attraverso la sua posizione attraverso la sua attacca profondità la sua collaborazione con Zlat quindi sicuramente ci manca un giocatore importante ma per fortuna ne ho tante altre disposizioni bene grazie a tutti